Per me Macario ha rappresentato la mia carriera, di questo gli sono infinitamente grato. Nel teatro credo che abbia rappresentato veramente la rivista nel vero senso della parola. Io a Macario gli ho sempre invidiato una grande cosa, questa calma, questa tranquillità e soprattutto vorrei arrivare io alla sua età, all'età che ha avuto purtroppo prima di lasciarsi, facendo divertire il pubblico sempre e continuamente, così come l'ha fatto divertire lui. Io credo che tutti quanti vi siamo grati per aver creato qualche cosa nello spettacolo di rivista, la rivista direi.